Noi abbiamo scelto un panorama con i giovani, questo è risaputo ormai da tempo perché il panorama non dava budget importantissimi per prendere piloti di primo livello. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, è risaputo che abbiamo preso un ragazzo giovane dall'America perché purtroppo il panorama ci dava i piloti europei tutti quanti già casati. Noi abbiamo risaputo che siamo dei talent scout, abbiamo creduto su questi ragazzi giovani e ci ha ripagato subito. Un ragazzo che lavora tantissimo, si è ingranato molto bene con il team, lavora seriamente e perciò i risultati per forza devono venire fuori.